Quando una gara finisce senza vincitori lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra, a volte anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto però. Siamo ai titoli di coda. Ringrazio Luca Marcheggiani per avermi accompagnato. Ricambio i ringraziamenti. Grazie. 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 Grazie.